Proprio qui, in questa valle, si narra di un popolo indomito di conquistatori ed esploratori. La leggenda racconta non avessero bisogno di torce per illuminare i loro villaggi, né di fuochi per riscaldarli. Un popolo sempre alla ricerca di nuovi mondi da scoprire, e che ancora oggi non ha intenzione di fermarsi. Ancora più offroad, ancora più tecnologica. Nuova Mini Countryman, tua da 24.950 euro.